Sono lì fuori, intorno a noi, vegliano su di noi, ci proteggono. Non è pazzesco? Perché io non li ho mai visti? Solo perché non hai visto qualcosa? Non vuol dire che non esista. Papà! Che succede, piccola? Una chiocciola parlante. A dire il vero, sono una lumaca. Niente guscio qui, pupa. Voi chi siete? Siamo i Leafmen, protettori della foresta. Io non sono di questo mondo. Quindi ti saresti ristretta? Sì. Davvero? È stata una giornata insolita. Sei qui per un motivo. A volte non tutto è comprensibile. Io distruggerò la foresta. Se muore il nostro mondo, anche il tuo morirà. Vieni, sei con noi ora. La foresta appartiene alle tenebre. Prima dovrai sconfiggere noi. Di là! Corri! Non puoi andare più veloce. È un po' difficile se mi tiri il cervello. Devo trovare mia figlia. Sono qui! Cercami! Oggi, niente bacini. Non puoi fermare il marcio. Chi è brutto dice cosa? Cosa? Niente. Cosa? In questa settimana? Cosa?